Perfetto! Nella smania di annientare l'orda non ho fatto attenzione alle munizioni. Esaurite le munizioni, dovrò pensare a forme di combattimento più arretrate. Cos'è successo? Perché ho così poche munizioni? Dovrò trovare munizioni o la giornata prenderà una brutta piega. Ho calcolato le nostre probabilità di sopravvivenza senza munizioni. Sono bruttine. Ora quest'arma è poco più che un guscio vuoto. Devo ricaricarla! Era inevitabile che finissi le munizioni. Un bel gioco dura poco. La carenza di munizioni è un altro sintomo della mia recente sfortuna. Non pensavo che le mie reserve si sarebbero esaurite così in fretta. E i miei proiettili? Ne avevo così tanti! Sofia, abbiamo un nostro conoscente in leggera difficoltà. Potresti dirmi dove trovare un nucleo energetico funzionante? Vogliamo solo liberarti, Gersh. Un momento, come faccio a sapere il tuo nome? Che mi succede? Comunque sia, al controllo drago c'è qualcuno che può aiutarti. Se la caverà, non dimentichi qualcosa, Sofia? Non avevi promesso di aiutarmi a trovare un nucleo energetico? Non sei il primo a graffiarmi, sai? Perché mi trovate così affascinante? Questo corpo è mio! Un mio soltanto! Ah, le tue mani sono un covo di germi! Puoi essere lobotomizzato? Con me non hai che da chiedere! Come devo dirtelo? Non toccarmi con quelle mani fettide! Non mi piace essere toccato da quelle sudici a ditta! Non toccarmi! Mi attacchi qualcosa! Questo non mi è piaciuto affatto! Non basta uno schiaffetto per battere il dottore! Inutile negarlo! Queste armi fanno sempre comodo! Dirigo l'orchestra dei non morti! E questa arma è la mia bacchetta! Stasera svoleremo! Una sinfonia letale! Ho fatto tutto il possibile! È così! Dico davvero? Cassa! Questa volta non mi hai deluso! Guardate! Io sono la morte! Due armi possono sembrare eccessive, ma vista la situazione sono necessarie. Davvero me ne servono due? Forse sì! Anzi, di sicuro! Credetemi, sono abile con entrambe le mani! Se la matematica non è un'opinione, ne ucciderò il doppio! Due vanno bene, ja! Ma preferisco averne una che mi piace davvero! Dopo studi approfonditi e innumerevoli test, ho concluso che gli esplosivi sono perfetti per far saltare in aria le cose. Speriamo che l'esplosione non ci faccia crollare addosso qualche edificio pericolante. Questo non è già innescato, vero? Anche a me piace far esplodere le cose ogni tanto... Anzi, sempre! Sono ordini pericolosi! Meglio fare attenzione! Nelle mie tasche saranno al sicuro! Davvero vi aspettate che usi questo affare? E c'è qualcosa, questo non lo nego, ma qualcosa che non voglio! Attimi di silenzio! Un buato assordante! Ed Edward mette giù il lanciarazzi, sicuro di aver già fatto abbastanza danni! Non ricordo come si tengono questi affari! Lo sto puntando nella direzione giusta, almeno! Non mi serviva! E non so neppure perché l'ho preso! Temsi dice che queste sono armi leggere! Non oso immaginare quelle pesanti! Preparatevi, miserabili! La vostra distruzione è imminente! Fa sembrare piccole le mie mani! Una volta il potere era tutto per me! Per fortuna sono rinsavito! Un'arma perfetta per chi non ha il tempo di mirare! Come me! Salve, scimmia! Piacere di riaverti fra le mani! Quel sorrisetto beffardo ce l'ha un enorme potere distruttivo! Guardate com'è felice! Tra poco sarà il suo momento di gloria! Scimmia, non ricordo la tua origine! Forse ti ho inventata io? Tra poco finirà tutto! Almeno per la scimmia! Che distetta! Sfogherò la mia frustrazione su qualcun altro! La cosa non mi stupisce! Qui non fa niente per il verso giusto! Un giorno anche tu sarai tradita, Cassa! E sarò io a riderti dietro! La cosa più irritante è quella risata! Non ce l'ho con te, Cassa! La tendenza a sparire è insita nella tua natura! Un'arma terribile! Da una cassa terribile! In un posto terribile! Come se l'avessero scelto i miei nemici! A questo punto avrai preferito uno stupido orsacchiotto! Cassa, non è che ti piace vedermi soffrire? Sul serio? Dopo quello che abbiamo passato? Non dovevi farmi questo! Proprio no! Ho capito! Mi toccherà aspettare che muoiano di vecchiaia! Sarò sincero! Non è quello che mi aspettavo! Forse, dico forse, questo è un segno! Un segno che devo arrendermi! A volte vorrei nascondermi in un angolino e piangere addirotto! Non mi sorprende a vederti qui! Del resto mi segui ovunque vada! Finalmente un'arma capace di bloccare i loro attacchi incessanti! Insieme abbiamo compattuto molte battaglie! E insieme ci avviciniamo all'ultima! Sei qui per salvarmi da una morte quasi certa? È passato troppo tempo dall'ultima volta che ho usato questo prodigio della scienza! Oh, splendido! Fa un rumore terribile e impiega una vita a ricaricarsi! Adoro questi fucili! Da sempre! Invece no! Chi voglio prendere in giro? Rozzo un volgare un sporco un primitivo! Lo adoro! Mi accontento di quello che trovo! Ho sempre ragionato in questi termini! Ti ringrazierei, Cassa! Ma non sarei sincero! Ah, almeno non è pesante perché sono molto molto stanco! I non morti avranno un incontro ravvicinato con main proiettili! Vi confiderò un piccolo segreto! Detesto le ammi da fuoco! Spero che Maxis stia bene! Mi manca! Nel poco tempo che ci resta, io e quest'arma faremo grandi cose! Cassa, perché non te ne fai al diavolo? A qualcuno può servire un fucile di precisione? Nessuno? Tu sai quello che voglio, Cassa! Non è questo! Concentrati, Edward! Può sempre servire! Può sempre servire! Ecco! Siamo spacciati! Papà Richthofen è orgoglioso della tua precisione, cucciolo di drago! Talvolta l'orda si avvicina un po' troppo! Questo è un ottimo sistema per allontanarla! Ben fatto, Richthofen Junior! È così che si uccidono tanti nemici in un colpo solo! Solo io comprendo il dolore ustionante inflitto dal fuoco del drago! Te la sei cercata! Dovevi morire quando ne avevi l'occasione! Non so cosa speravi di ottenere! E ora non lo saprò mai! Ti ho ucciso soprattutto per il rumore che facevi! Se mi sento in colpa per aver ucciso un nano non morto... Vediamo... No! Oh, poverino! La tua non vita è finita prima del tempo! Ti ho spezzato in due! Ottime notizie! L'amputazione è riuscita perfettamente! Non sei ancora morto? Provedo subito! Perché? Perché non ti arrendi? Non hai consenso! Dovrò stare attento a dove metto i piedi! Credo di piacere al drago! Forse anche troppo! Non ce l'ho con te, Draken! È solo che preferisco non essere arrostito! Non temo nulla! Neppure il soffio infoncato di un drago! Il rugito segnala il suo arrivo! Le fiamme... Beh, sono un brutto segno! Vuoi asputare fiamme da un'altra parte? Non è saggio interagire con il drago senza protezioni adeguate! Dubito che le scaglie di drago siano puramente estetiche! Potrebbero conferire poteri aggiuntivi! Spero che queste scaglie non provengano dalla compagna del drago! Non la prenderebbe bene! Questo scudo mi ha ustionato! Bisogna usare dei guanti speciali? Ah! Scotta! 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 State attenti o potreste farvi male! Più del solito! Non sono abituato a essere difeso dalle fiamme dell'inferno! Lasciatevi consumare dalle mie fiamme! Nulla può resistere alle fiammatte del mio scudo infocato! Attenzione! Il fuoco scotta! Un... Uccide! Siete tutti destinati a bruciare! Estenti col fuoco! Molto appropriato! Brucciali! Brucciali tutti! Sazia di mei dragen! Sazia di! Drago! Scatena l'inferno sulla terra! Chiedo troppo! La città è già in macerie! Qualche incendio in più non farà differenza! A dire il vero! Da piccolo non amavo a piccare incendi! Lo facevo e basta! Il drago è stato sconfitto! Il tuo coraggio è pari soltanto alla tua sbornia, Nicolai! Purtroppo! Ed ecco un profondo ramarico che te lo dico! La nostra missione può avere successo solo se ti arrendi! Spero sorvolerai sul fatto che sono un po' tedesco! Ci serve il tuo aiuto, Nicolai! Cofa, mein Dragen! Cofalo come non hai mai cofato prima! Concentrati sulla missione, Edvard! Sai cosa devi fare! Povero Nicolai! Immagino lo strazio del suo grosso cuore russo! Per un attimo ho temuto che Stalingrado fosse teatro della grande guerra! Molto presto! Tutto sarà perfetto! Perfettamente perfetto! Richthofen, Dempsey, Takeo! Manca solo Nicolai! Sapendo quello che ci aspetta, sento l'urgenza di fare scorta di armi! La fine è vicina! Molto vicina! Preferisco scegliere da solo i miei strumenti! Mi accontenterò! Non ho voglia di andare in giro a cercare altro! Oh, Nicolai! Povero Nicolai! Spero sia dispiaciuto per me! Non ricordo l'ultima volta che ho mangiato qualcosa di decente! Ormai bibiti a gomme da masticare sono il mio unico nutrimento! Mi raccomando, mai accettare caramelle dagli sconosciuti! Finisce sempre male! Dottor Monti! Maxis ha sempre solo accenato alla tua esistenza! In quanto tuo collega, dottor Monti, apprezzo il tuo operato! Sarà di sicuro deliziosa! Voglio essere ottimista! Non capisco che effetto abbia! Aspetterò pazientemente che mi sia rivelato! Ja! Squisita! Grazie mille! Sei capace di rubare le caramelle a un bambino? In un certo senso l'ho appena fatto! Mi si è incassata in gola! Fatti vedere Monti! Ormai sappiamo quanto sei importante! Se proprio insisti, immagino non sarà una conversazione particolarmente interessante! Come sospettavo, argomento poco interessante! Possiamo parlare d'altro? La casa! Dobbiamo arrivare alla casa! Manca poco! La casa! Non te l'ho detto? La saremo al sicuro! Per sempre! Io... Non lo so! Ho di nuovo le idee confuse! Sei pronto ad affrontare i tuoi demoni interiori, Nicolai? Sei pronto per ciò che ci aspetta? La tua anima non è in pericolo, Nicolai! Sarà custodita nella chiave dell'evocazione! Al sicuro! La folia che ti circonda non durerà in eterno, Nicolai! Come ti ho già detto, tutto ciò che faccio ha uno scopo! Voglio migliorare le cose! Per tutti noi! Devo chiederti di avere fiducia in me, Nicolai! Meno parliamo del sangue, meglio è! Dovrebbe essere un segreto! Fidati, Nicolai! Il piano funzionerà! Puoi smettere di sforzare la tua testolina rossa! Te lo dice il dottore? Oh, no! È un fardello che deve gravare soltanto su di me! Nicolai è più forte di quanto pensi, Takeo! Non sai cosa ha dovuto sopportare in passato! Io sì! Il falimento appartiene al passato, Takeo! Non mi è estraneo, ma non si ripeterà più! Noi completeremo la missione! Ja, Takeo! Sentirai delle voci! Anche voci che io non potrò sentire! Non temere, il loro vero scopo verrà rivelato, sempre se sarà necessario, cosa che non mi auguro! Salve, piacere di ucciderti! Ho dovuto farlo! La situazione era imbarazzante per entrambi! Se avete tanta voglia di morire, posso accontentarvi! Fuori un altro! A chi tocca? Sono lusingato, ma non posso accettare questo bizzarro corteggiamento! Il tuo lezzo ti ha preceduto, per questo ero già pronto a ucciderti! Non mi avrete mai! La tua morte è cruciale per la mia sopravvivenza! Come osi spruzzarmi addosso il tuo sangue? Ero davvero stufo del tuo alito pestilenziale! Non mi aspettavo altro da uno come te! Avresti dovuto uccidermi quando ti tavo le spalle! Hai fallito! Fallirete tutti! Le mie ferite guariranno prima ancora che il tuo corpo si decomponga! Ti ho già dimenticato! Ho ricambiato il tuo sgradevole approccio fisico! Perdonami, ora sono un po' occupato! Non capite che sono impegnato in facende ben più importanti! E resta morto! Mi raccomando, se cercate il contatto fisico, è esattamente quello che avrete! Inutile girarci intorno! La prognosi non è affatto buona! Come la vita, l'esplosione è un fragoroso scoppio di luce, seguito da una silente oscurità! La prossima volta dovrò stare ancora più indietro! Una botta di vita ogni tanto fa bene alla salute! Ormai l'intervento chirurgico è da escludere! Non mi stanco mai di uccidervi! È uno dei piaceri della vita! Buono, buono, è tutto finito! Ecco, questa è la mia medicina! Eri una zanzara che ho dovuto schiacciare! La pace è una chimera! Ah, per tutti noi! Non so quanto apprezzino il piettoso braccio della morte! Ho la mano ferma! Come ogni vero chirurgo! Hai incontrato una strana malattia alla testa! Meglio si riposi! Se la precisione fosse la mia missione, questo sarebbe un glorioso successo! Devi fare come dice il dottore! Oh, scusami! Purtroppo ho dovuto asportarti il cranio! Che ora è? È esattamente l'ora di morire! Lo farei più spesso, ma non vorrei sembrare sbrufone! Stalingrado è un brutto posto! Dovevi stare alla larga! Credo sia morto! Questo solitamente funziona! Bene così, amico americano! Compi il nostro destino! Mi sorprendi, Temsi! Ti è passato un solo colpo? Temsi ha passato brutti momenti, ma sembra più motivato che mai! Continua così, Temsi! E presto ci libereremo dell'orda! Scherzo, ce ne sono altri milioni! Dovresti guardare a me, Temsi! Hai ancora molto da imparare! Sapevo che questo luogo non avrebbe giovato alla salute mentale di Nicolai! Sì, Nicolai! Assapora la tua vendetta! Nicolai! Si può sapere dove hai imparato a sparare così? Nicolai! Hai fatto qualche indicibile patto per diventare così preciso? Sei davvero forte, Nicolai! Dico sul serio! Bravo, Takeo! Vedo che hai superato quel recente episodio traumatico! Ja, Takeo! Hai superato anche questa prova! Takeo! Sento i tuoi antenati che tifano per te dall'aldilà! Pare che Takeo sia ancora più abile, un competente di quanto pensassi! Che precessione! Continua così, Mein Klein, amico guerriero! Ecco la mia ricetta! Una pugnalata nel cuore! Perché non mi lasciate in pace? Non sopporto gli idioti! Specie quelli non morti! Se dicessi che non ci ho provato gusto... Mentirei! Seguo la via dell'illuminazione! Sono arrivato a una diagnosi! Sei morto! Ho terminato la visita! La prognosi non è buona! Prossimo paziente! Siete su questa terra per un unico scopo! Morire! Non ho tempo per torturarti lentamente! La scimmia non era che un agnello sacrificale! Un agnello scimmia? Mmm... Se anch'io mi mettessi a suonare i cembali, attirerei i non morti? A volte mi chiedo perché i non morti ce l'abbiano tanto con le scimmie! Pensate se la canzone della scimmia fosse l'ultima della vostra vita! Addio scimmia! La tua morte mi addolora! Folatemi in proiettili! Perforateli tutti! Si disintecrano davanti ai miei occhi! Che spettacolo inebriante! Non riesco a tenere il conto se morite così in fretta! Non sapete che ho renegato il giuramento di Ippocrate? Speravo di trovare qualche stimolo in più! Siete un'autentica delusione! Cosa? Non può essere! La corazza di quella creatura sembra scomoda! Forse è per questo che è così inferocita! Ma guarda un po'! La tua faccia sembra piuttosto affilata! Potrei buttarla su ridere e chiederti dove hai lasciato il martello! Ma forse ti arrabbi arresti ancora di più! Ups! Troppo tardi! Ma certo! Diamo corazze e canoni laser a Lorda demoniaca! È un'idea grandiosa! Non dobbiamo combattere per forza! Parliamone! So di non essere molto convincente! Per certi versi il mio è stato un atto di pietà! Ma come? Non eri progettato per essere imbattibile? I resti del tuo corpo torneranno utili a qualcuno! Quelli metallici perlomeno! Un'autopsia sarebbe tempo sprecato! La causa del decesso è evidente! Pensavi che bastasse una corazza per sconfiggermi? Chiedito al Panzer Soldat! Quest'arma non farà che peggiorare i miei problemi d'udito! Ah! Con questa ci sarà da divertirsi! Ah! Un po' meno per loro! Non serve mirare con precisione né badare alle munizioni! Perfetta! Arma dalle mille toti! Di certo non è silenziosa! Venite qui che vi apro qualche nuovo buco! Non serve arrivare a questo, Nicolai! Sì! In questa dimensione i tedeschi sono cattivi! Ma in realtà non siamo... Ehm... Beh... Complicato! Lo lasciamo perdere! Devi arrangerti, Nicol... Aspetta! Mi hai appena augurato di morire? Non ti sembra di esagerare? Il nostro piano è in parte questo! Anzi, è proprio questo! Su questo, ma in amico transdimensionale, ti sbagli in modo clamoroso! La tua vittoria sarebbe una sconfitta inaccettabile per noi! Solo se sarà necessario! Ma possiamo ancora evitarlo! Non sei un semplice sovietico, Nicolai! Sei molto importante! Su, Nicolai! Lascia perdere il fucile e parliamone con calma! I muri, le porte, le macchine! Perché sono tutti contro di me? Perché devo pagare? Dammi una sola buona ragione! Non c'è! La mia avidità mi ha lasciato con un pugno di mosche! Un giorno il denaro sarà abolito e tutti saranno uguali! Ho reso così tanto quando Nicolai l'ha detto! È una tragedia che molte imprese faliscano per la manganza di fondi! Morirete tutti comunque! Perché mi fate perdere tempo? Quando vi entrerà in testa? Non avrete mai il meglio! Sono circondato da idioti! Vivi un... Non morti! Difficile scegliere chi ammazzare quando sono così tanti! Quasi invidio la vostra beata ignoranza! Siete orribili malformazioni da sportare chirurgicamente! Facciamo in fretta, d'accordo? La vostra insistenza è francamente seccante! Ambarabà ciccocco! Tre mostracci sul comò! Mi piace essere al centro dell'attenzione! Ho un ego smisrato! Dempsey, stai attirando un po' troppa attenzione! Ti serve una mano, Dempsey? Spero tu mi dica di no! Preferirei che non morissi, Dempsey! Non sai quanto ho penato l'ultima volta! Prova con il tuo hurra! Di solito funziona! No? Se ti serve assistenza, Dempsey, dovevi dirlo prima! Ho c'è da fare! Non morire, Nicolai! Non ancora! Il nostro amico russo si è fatto circondare! Ma niente di nuovo! Non farmi venire fin laggiù, Nicolai! Sul serio! Hai visto quanti sono? Ya, Nicolai! Lasciati circondare! Ma non dimenticare di ucciderli, mi raccomando! Visto che succede a mettersi in mostra, Nicolai! Takeo, Takeo! Sicuro di avere ancora il vantaggio tattico? Non aspettarti che ti aiuti, Takeo! Specie se iniziano a divorarti! Takeo è circondato! Bisogna fare qualcosa! Ehi! Takeo è circondato! Qualcuno lo aiuti! Eh, Takeo, non so se l'hai notato, ma l'orda sembra avercela con te! Mettiamola così, Takeo! Non è peggio di quello che hai già dovuto sopportare! La mia vera ricompensa è ancora da venire! Spero mi aiuterà ad andarmene via per sempre dalla Russia! Come me, quest'arma vuole diventare migliore di prima! Non mi serve altro per il mio ultimo giorno! Il mio ultimo giorno su questa terra, almeno! Per una volta, il mio ottimismo ha prodotto qualche risultato! Avevo promesso di dire loro la verità, ma poi l'ho fatto o ci sono arrivati da soli! Io ho sentito la sua voce, ma gli altri... Presto troverò Marxis! Tutto è quasi come dovrebbe essere! Sprigati, Monti! La mia pazienza si sta esaurendo! Oh, temo che il mio stomaco si stia ribellando! È rivoltante! Ah, quindi mi farà bene! Questo liquido è... Più denso di quanto ricordassi! Bevo solo in occasioni speciali, come questa! Ja, le bevande! Ma certo, sono un elemento chiave nel piano per placare la mia sete! No, no, questo gusto non fa per me! Marxis diceva sempre che ho molto potenziale in espresso! Non ho mai studiato la composizione chimica di questa bevande! Ci sarà un motivo! Questa è davvero deliziosa! Il mio palato non è più lo stesso da quando siamo arrivati qui! Ascensione? Perché non ne so nulla? Ah, pazienza! Troverò quelle unità! Ah, sempre le solite complicazioni! Ja, sono pronto all'inevitabile! Forse dovrebbe tenerlo qualcun altro! Tanto non è affatto pericoloso! Le mie tasche non sono abbastanza capienti per gli oggetti potenzialmente inutili! Ja, so a cosa serve! Nein, no, non lo so! Lo terrò al sicuro, come faccio con tutti i miei segreti! Lo terrò io! Perché? Qualcosa mi dice di farlo! Oh, guardate! È un piccolo... qualcosa! Sembra importante! Meglio che io lo conservi! E questo cos'è? Dovrei saperlo! Non può essere quello che penso! Infatti non lo è! Uh, è proprio quello che mi serviva! Non esattamente, ma non volevo demoralizzarvi! Meglio avere più munizioni che meno! Beh, se questa non è fortuna! Non serve ringraziare! Perché in fondo me le meritavo! Mi sento rigenerato! Almeno in termini di munizioni! Altre munizioni? Oh, wunderbar! L'eterno ciclo del tormento può continuare! Neppure tutto il denaro del mondo può risarcirmi per quello che ho passato! Voglio credere di essermelo meritato! Oh, grazie per l'elemosina! Un piccolo dono del cielo! Microscopico dono del cielo! Non è granché come incentivo! Sembra più un gesto di pietà! Ehi, Nicolai! Sistemiamo un po' la tua adorata città! Non possiamo mettere la sordina a quelle martellate? Le tavole non dureranno molto! Come molte altre cose! Esigo un lavoro ben fatto! So già che resterò deluso! Questo frastuono mi ha perforato un timpano! Cosa? Qualcuno ha parlato? Benché me l'aspettassi, quel suono mi ha fatto venire un colpo! Non sempre è questione di soldi! Adesso sì, ma non sempre! Vi assicuro che destinerò questi introiti a un'ottima causa! La mia! Apprezzo gli incentivi in denaro per cose che avrei fatto comunque! Il totore non si fa corrompere! Non per così poco, almeno! Potenza distruttiva! A buon mercato! Sarebbe un delitto non approfittare di questa svendita! Chi è che configura i requisiti monetari della cassa? Quando si dicono le fluttuazioni del mercato? Diamoci allo shopping sfrenato! Prevedo un picco nel tasso di mortalità! Però così non riuscirò a farli soffrire come volevo! Attuerò un piano vendicativo che avevo in mente da lungo tempo! Eseguirò una semplice operazione chirurgica! Guardate pure, finché potete! Peccato che muoiano così in fretta! Non posso neanche prendere appunti! Si pentiranno di essersi opposti al dottor Edward Richthofen! Perché è così pesante? Non fa bene alla mia povera schiena! Questo strumento procurerà una morte più permanente del solito! Vi avverto, non sarà un'operazione molto pulita! Chi vuol morire, si faccia avanti! Sarà una cosa rapida! Non possiamo usare quest'arma contro quel maledetto drago? Grazie tante, ma mi sarei aranciato da solo! Questa città brucia in eterno, intrappolata in un conflitto perenne! Oh, se solo l'esplosione durasse un po' più a lungo! Lo spettacolo di sangue, un fuoco, un morte si ripeterà! Ancora! Un ancora! Mi riempie d'orgoglio sapere che sono stato io il vero pioniere di questa tecnologia! Le mie mani tremano per l'emozione! Anzi, no, è un guasto al convertitore del 115! Poco male! Oh, smettetela di frignare! Non fa più male di altre pistole a raggi! Oh, sì! Oh, sì! Quest'arma è la mia degna erete! Posso concludere che il collaudo della nuova pistola a raggi è stato un successo totale! Oh, sì! Abbracciate la singolarità! Sembra piuttosto doloroso! Mmm, vediamo! Potrebbe essere uno squaccio nello spazio-tempo! Meglio stare alla laga! Ah, sei un'arma davvero stupefacente, Mark III! Oh, sembra assai rischioso! Mi piace! I laser della morte doppi sono un passo nella direzione giusta! Ya, la Mark III! Spero che ne sia valsa la pena! È appropriato che sia un dottore a collaudare questo prodigio scientifico! Oh, oh, oh! Sembra un bulto pericolosa! Ah, ya! Le tavole, i chiodi, le inutili e laboiosi riparazioni! Non oso immaginare i calli che segneranno le mie preziose dita da chirurgo! Martello un chiodi! Potrebbero avere usi molto più interessanti di questo! Me le sogno anche di notte! Ma quant'è l'ultima volta che ho dormito? Un giorno ci liberemo per sempre di queste tavole! Molto presto! Non conosco bene i tuoi sistemi interni, ma ti ho fatto male? Spero di sì! Perché ti scaldi tanto? Le ferite di guerra sono un problema comune a tutti i soldati! Oh, scusa! I miei colpi hanno messo fuori uso il tuo regolatore! Un vero peccato! Nein! Che mi è saltato in mente! Potevo risparmiarmelo! Non ha funzionato? Ma mi ero impegnato tanto! No! Per niente! Ora che ci penso! Com'è che dice Dempsey? Questa volta mi è andata di sterco! Perché deve essere sempre colpa mia? Gli altri incolperanno me e non posso biasimarli! Possiamo riprovarci? Oggi deve andare tutto storto? Non sono venuto fino a Stalingrado per fare queste figure! Deve esserci un errore! Spero di non essere io! Sono piccole soddisfazioni! E questa strana sensazione? Che sia felicità? Incredibile! Ha funzionato davvero! Un'altra operazione perfettamente riuscita! Cotiamoci questo successo! Finché dura! Che? Ha funzionato? Sto sorridendo! Liscio come l'olio! Mi sento felice! È un buon segno, credo! Avrò la mia vendetta! Non appena mi rimetterò in piedi! La nostra morte diventa improvvisamente più probabile! Ho commesso un piccolo errore di calcolo! Segui la luce, Edward! Anzi, no, no! Non seguire la luce, Edward! Anche i più esperti possono sbagliare di tanto in tanto! Avevo grande fiducia in te! Cos'è successo? Ci tieni a sapere quanto mi hai deluso? Molto! Mi servite a tutti affinché il mio piano abbia successo! È da tempo che non esercito! Spero di non aver sbagliato medicina! Potrebbe bruciare un po'! Oh, molto! Ti ringrazierei sentitamente se ne avessi il tempo! Ma la missione, innanzitutto! Potrei dirti che non succederà più, ma sappiamo che non sarà così! Per fortuna c'è qualcuno interessato al mio benessere! Sai benissimo che dalla mia esistenza dipende anche la vostra! Ah, allora non volevi vedermi morire disanguato! Per un attimo l'ho temuto! Manca poco! Ma temo... Temo... C'è qualcosa che non va! Qualcosa mi sfugge! Mein Gott! È la nostra disfatta? Stalingrado? No! Calma di Edward! Non ero io! Non c'entravo! Sono uno scienziato! Un medico! Non ho mai voluto nuocere a nessuno! Ma l'ho fatto! C'è molto da fare! Un ricettacolo per Marxist! L'apertura dei passaggi! Nein! Sono confuso! Donate illusione indotto dal 115! Siamo qui per Nicolai 1.0! Conta soltanto questo! Nicolai! Devo trovare Nicolai! Lui è l'ultimo! Poi... Poi... Io... Noi... Saremo ricompensati! Lui verrà da noi! Proprio così! Nicolai è l'ultimo! Quando l'avremo sistemato... Lui verrà da noi! E non mi riferisco a Nicolai! Calmati Edward! Respira! Concentrati su ciò che è importante! Manca poco! A prescindere dal suo stato mentale... Dobbiamo fare il possibile per aiutarlo! Non voglio avere tra i piedi altri russi arrabbiati! Saretsin! Volcocrat! No! Questo è Stalingrado! Maxis! Mi sente ancora! Ormai manca poco! Va bene! Posto che riesca a trovare Maxis... Nessuno gli dica che siamo stati noi! Ja! Vediamo se sei... Chi penso che tu sia! Sembra impossibile, ma Sofia era la segretaria di Maxis! Non so come sia diventata una macchina! L'importante è che sembra controllare gran parte della tecnologia di questa zona! Preannunciargli la sorte che lo attende? No! Non è il caso! Sarebbe una pessima idea! Per fortuna oggi non ho fatto la doccia! Quando è stata l'ultima volta? Questo mio nuovo odore potrebbe servire per mimetizzarsi! Dopo l'isola speravo di essermi lasciato alle spalle questi odori! Boh! Mi sbagliavo! Di grosso! Fortunatamente le mie narici si sono quasi assuafatte a questo tamfo! Nel mio lungo viaggio ho vissuto numerosi incubi occhi aperti! Queste fogne sono tra i peggiori in assoluto! Sono dita colosali! Meglio stare alla larga o potrebbero scambiarmi per un non morto! Neanche il rumore di enormi dita minacciose li spaventa! Sono troppo stupidi! Sembra la chela di un gigantesco cranchio robotico! Oh! Sarebbe una cosa orribile! Quando esercitavo usavo delle morse simili a quella! Non così grandi! Ma quasi! Lo sapete che cosa si dice dei robot dalle mani grandi? Sono bravi a uccidere i non morti! Eletroshock! Un classico! Riposa in pace, Sal! Forse questo accenderà il loro interesse! Voglio mostrarvi una cosa, ma vi avverto! Potreste restare scioccati! Non c'è il rischio che rianimi quelli già morti! Vero? Sono elettrizzato all'idea di vederli sfriggolare davanti ai miei occhi! L'elettricità mi fa sempre questo effetto! Spero che il laser non sia troppo intenso! Ultimamente ho la vista molto sensibile! Vaporizzare con il laser non è divertente quanto sembra! Lo dico per esperienza! Il raggio laser è un'aggiunta wunderbar! Incredibile che il gruppo 935 non l'abbia incluso nel modello originale! Gigante! Trafici quelle creature con il tuo sguardo mortale! Che esista una versione di me stesso provvista di occhi laser? Non esageriamo! Potrei usarla per lanciarmi fuori da questo inferno! Se non muoiono durante il volo lo faranno sfacelandosi al suolo! Devo ricordare di non passarci sopra dopo averla attivata! Sarebbe traumatico! Ah ah! Oltre che letale! Questo congegno è assai divertente! Potremmo usarla per lanciare il vecchio Nicolai verso la sua morte! No, no, troppo melodramatico! Ah, qualità di produzione scadente! Mi meraviglio del gruppo 935! Hai finito di scansionare! E tanto da noi non avresti ottenuto niente di utile! Non tutte le invenzioni del gruppo 935 danno gli esiti sperati! Non mi tormenterai più! Le macchine non provano dolore! Così non c'è neanche gusto! Cosa sperava di ottenere il gruppo 935 con quelle mostruosità? La voce che emette perché mi suona familiare? Possibile che un tempo, da qualche parte, sia stato Maxis a creare quei mostri! Immagina se anch'io avesse dei tentacoli robotici! Sarebbe stupido! O forse no! Piccole macchine insignificanti che vogliono senza scopo, senza padroni! Vi ricorda qualcosa? Un piccolo drago affidato alle mie cure! Lo crescerò come fosse mio figlio! Ho sempre desiderato avere un figlio! Questo ha la pele dura e l'alito pericoloso! E tutto suo padre! E inferno sia! Il drago esprime la mia furia! Avanti, drago! Infiamma questo mondo! Vola, mein Draken! Vola! Ja, mein Draken! Insieme faremo terra bruciata! Soffia, mein Draken! Investi l'orda con il tuo soffio infuocato! Falli bruciare, draghetto! Bruciare und morire! Bruciano come candelline su una torta! Che non ho mai avuto! Le fiamme sono così tante e così volenti! Scotta! Devo stare indietro! Il fuoco brucia! È una costante universale! Più o meno! So come prendersi un pugno in faccia! Ora lo sai anche tu! Oh sì, è stato corroborante! Ma in quanto è troppo potente! L'amputazione è stata quasi perfetta! Prendi la tua medicina! Non è la prima bestia che tengo al guinzaglio! Vi sembrerà strano, ma a me non piace dar fuoco alle cose! Oh, com'è adorabile! Il mio draghetto vuole giocare! Sei pronto, mio seguace? Ti consento di sprigionare le fiamme sull'orda! Molti miei pazienti lamentano strani bruciori ultimamente! Credo di sapere perché! È passato molto tempo dall'ultima volta che ho operato! Vogliamo cominciare? È leggermente meglio di una manaia! Inciderò il mio nome sul cranio di quelle creature! Ottime notizie! Si può procedere all'autopsia! Non immaginate quanti danni si possono fare con un semplice bisturi! Il mio unico ramarico è non poterla collaudare di persona! L'orda è talmente ossessionata da me che non bada dove mette i piedi! Gli esplosivi sono poco precisi, ma estremamente efficaci! Li farà letteralmente a brandelli! Letteralmente! Stalingrado ha visto molte esplosioni! Uno in più non farà differenza!